Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Il celebre attore Lando Buzanca è stato ricoverato in ospedale. La notizia è stata lanciata dal Tempo e, come riportato da fanpage.it, è stata confermata anche da Barbara D'Urso nel corso della trasmissione Pomeriggio 5 in onda su Canale 5. La conduttrice, infatti, ha svelato che Lando Buzanca non si trova più nella RSA perché è caduto, credo proprio dalla carrozzina, ed è ricoverato in ospedale. Lando Buzanca, dunque, in questo momento si trova ricoverato in ospedale in seguito alla caduta avvenuta nell'RSA. Al momento non si conoscono le condizioni di Buzanca, ma da parte nostra al celebre attore vanno a lui i migliori auguri di una pronta guarigione.